L'annosa questione del palazzetto di Muggiò. Qualcosa questa volta si sta muovendo perché è arrivato in comune a Como l'atteso studio di fattibilità aggiornato sullo stato dell'immobile. Il documento precedente risaliva al 2017. Nei prossimi giorni il testo, con le novità emerse, sarà discusso in giunta. Uno dei nodi da sciogliere era la capienza. Lo studio di fattibilità, che era stato predisposto in precedenza, oscillava dagli 800 ai 1500 posti, ma ora si guarda a una struttura da 2000 e più. Si lavora infatti a un palasport da circa 6000 metri quadri. L'investimento complessivo tra progettazione e lavori supera i 14 milioni di euro. Di questi sette sono già a disposizione. Circa 3 milioni 450 mila euro arrivano dal finanziamento regionale e altrettanti già approvati dall'amministrazione. Per la restante parte si attingerà invece dall'avanzo di bilancio.